Musica Ben trovati anche con lo sport, il calcio in apertura è ufficiale, la lucchese ha preso in prestito con diritto di riscatto dalla vis Pesaro Francesco Marcheggiani, che vedete nella foto, esperto attaccante con oltre 140 gol, 10 lo scorso anno e 300 presenze in carriera. Passiamo adesso alla Serie D, il campionato nazionale di Lettanti riprende nel giorno dell'Epifania, facciamo il punto con Giulio Del Fiorentino. Due partite in quattro giorni, il 2021 inizia sprombattuto per la Serie D, che tamponi permettendo scenderà in campo mercoledì nel giorno dell'Epifania e poi domenica 10 gennaio per riprendere a pieno ritmo. Tutto ciò con un calcio mercato a dir poco strano, che sta rivoluzionando le rose con arrivi dalla Serie C e dall'eccellenza. Il Ghiviborgo riparte con il match di cartello. Al comunale di Alto Pascio, la squadra di Lavezzini ospita infatti il Forlì, con il quale condivide in coabitazione il penultimo posto in classifica a sei punti. Una gara da dentro o fuori per i biancorossi, che hanno intanto ufficializzato l'arrivo di Filippo Fazzi dalla lucchese, di Elia Chianese dal tau calcio e del croato Sime Grecov dal seregno. Gioca in casa anche il Realforte Querceta, che riceve la Marignanese. Sono quattro punti in più dei versiliesi in una classifica, quella del Girone D, tuttora molto corta in via di definizione sulla base delle forze in campo. Il Seravezza Pozzi infine è l'unica compagine lucchese che riprende il campionato giocando in trasferta. L'avversario di turno è la Correggese, formazione emiliana ancora in cerca di un'identità da grande. Passiamo al tennis. Nel primo turno delle qualificazioni del torneo WTA di Abu Dhabi, la tennista lucchese Jessica Appieri ha battuto in due set con il punteggio di 6-4-6-0 la polacca Katarina Peter. È tutto anche per lo sport. Breve break di nuovo e poi torniamo con la terza e ultima parte del TG Noi.